Analisi del voto oggi anche da parte di Fratelli d'Italia. Il partito cresce ed è soddisfatto. Il risultato dell'Aquila per Fratelli d'Italia è stato il migliore in tutti i capoluoghi dove si votava, con la riconferma del sindaco Pierluigi Biondi al primo turno. All'Aquila il partito ha preso quasi il 20,5% e Fratelli d'Italia, secondo il coordinatore regionale Etel Sigismondi, si conferma il partito più votato del centrodestra, ma il risultato di Biondi non è isolato perché i sindaci di Fratelli d'Italia e i candidati hanno conseguito ovunque ottimi i risultati. Il sindaco Biondi rispetto a cinque anni fa è riuscito a incrementare il suo risultato e anche Angelo Di Nardo a Ortona, Ortona va al ballottaggio con Di Nardo che appoggerà Ilario Cocciolo a cui non sono mancate le polemiche, ha incrementato il suo risultato rispetto a cinque anni fa, ha ribadito Sigismondi, il che vuol dire che la classe dirigente di Fratelli d'Italia riesce ad essere il traino del centrodestra e l'Abruzzo a voglia di centrodestra hanno ribadito tutti i presenti. Un voto che fa besperare per le politiche e le regionali tra due anni, dove il centrodestra arriverà molto più forte e con il vento in poppa hanno sostenuto i presenti. Questo è un merito sicuramente della classe dirigente, di tutti i candidati che sono scesi in campo in questa competizione elettorale. È un risultato degli uomini, Luigi Biondi è riuscito a vincere al primo turno incrementando il dato elettorale rispetto a cinque anni fa, è un dato che non si registra soltanto all'Aquila ma anche in altre realtà come Ortona è ottimo il risultato di Angelo Di Nardo che riesce a raddoppiare il suo consenso rispetto alle passate elezioni. C'è una crescita di Fratelli d'Italia ovunque, Fratelli d'Italia stabilmente è il primo partito della coalizione e c'è un risultato importante del centrodestra. Un modello perché l'elettorato ha gradito la continuità, il fatto che cambiare significava ricominciare da capo, sarebbe significato tornare indietro nel tempo, collaudare di nuovo una macchina che invece oggi è collaudata sia a livello politico che a livello amministrativo, un centrodestra che è unito, è convincente e si presenta con una proposta credibile agli elettori e soprattutto riesce anche ad allargarsi a componenti civiche. Il sindaco Biondi ha ricordato che Fratelli d'Italia legge sette consiglieri, tre sono donne, le prime tre dei non eletti sono donne, segno della capacità delle donne stesse che non sono un orpello, ha detto Biondi la risposta migliore alla storia delle polemiche della foto delle 99 cannelle. Biondi ha ricordato che Fratelli d'Italia conferma al sindaco a Balzorano, governa in comuni importanti come Celano, Castel di Sangro, Trasacco, Pescine e altri comuni dell'Aquilano. Presenti anche Marilena Rossi, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia e sottosegretario Umberto D'Annuntis. La Rossi e D'Annuntis hanno analizzato il voto dei comuni del Terramano al vuoto, dove il centrodestra è andato benissimo in due centri importanti come Tortoreto e Martinsicuro.